L'auto camionale Genova Valle del Po Il ministro dei lavori pubblici, sua eccellenza Razza, accompagnato dal sottosegretario, sua eccellenza Cobolli Gigli e dalle autorità di Genova ed Alessandria, ha eseguito un'ispezione generale ai lavori dell'auto camionale, percorrendola in automobile per 48 km sui 50 di lunghezza totale. I restanti due chilometri che comprendono il tratto più arduo e caratteristico della nuova arteria sono in avanzata costruzione. La grande opera ideata e voluta dal duce si manifesta già in tutta la sua romana grandezza, coi 30 ponti e viadotti, le 11 gallerie, i 39 km di muri, il susseguirsi di profonde trincee. L'auto camionale appare anche interessantissima per le bellezze panoramiche che tengono avvinta l'attenzione di chi la percorre. Anche al grande piazzale i lavori fervono per il loro completamento.